Sono da poco iniziate le riprese della terza stagione di Doc Nelle Tue Mani, la fiction di successo con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon che andrà in onda su Rai 1 i primi mesi del 2024. Prima tornare sul set del medical drama che l'ho definitivamente consacrato come uno degli attori più talentuosi e richiesti dai registi italiani, l'attore piemontese ha pubblicato il suo primo romanzo, Tutti i miei impegni a distanza, dove, senza l'aiuto di No Ghost Writer, raccontato le vicissitudini un personaggio che rappresenta un po' anche se lui stesso. Di recente, durante un'intervista a Rolling Stone, Argentero ha parlato del grande coraggio che ha avuto nell'intraprendere la strada della recitazione credo di aver avuto quel coraggio, anche quando c'era da chiedermi cosa ci faccio su un palco. Va bene, forse sono stato fortunato ma fallo tu. Hai il coraggio di restare qui a raccontare una storia per due ore? Hai 40 pagine a memoria da recitare a 2000 persone? Luca Argentero si è fatto conoscere dagli addetti ai lavori e dagli appassionati cinema grazie all'intensa interpretazione di Lorenzo Marchetti in Saturno contro, Fersano Spetec nel 2007. Prima però, nel 2003, c'è stato il grande fratello. Sulle pagine della rivista Luca ha raccontato perché non vuole più parlare del reality sai perché mi sono stancato di parlare del grande fratello? Perché non esiste più. Non ci sono gli stessi ragazzi sconosciuti che in quel periodo eravamo noi. Ora sono persone dello spettacolo che è inserito, secondo me, in un contesto un po' grottesco in cui non mi riconosco più. Ho un bellissimo ricordo di quell'esperienza, ma la nostra è stata un'altra roba. In passato l'attore ha ricoperto anche il ruolo di giudice ad amici, il talent show di Maria De Filippi se qualche ragazzo mi scopre grazie agli amici, probabilmente allora mi vedrà anche al cinema riconoscerà un volto di famiglia e magari sceglierà quel film Friends per me non è stata una decisione puramente commerciale, aveva il suo scopo. E la conferma mi sono venute anche da ospiti internazionali Ricordo Al Pacino, Matthew M.C. Conaugey, Harrison Ford, la gente è venuta su persone che non potevo crederci. E a proposito di Harrison Ford. Avevo Indiana Jones al mio fianco l'ho leccato per mezz'ora raccontandogli a memoria tutta la sua filmografia. E quella volta, in totale onestà, gli ho anche chiesto scusa Harrison, ma perché sei qui? Era impensabile, voglio dire come doveva essere l'ospite d'onore di amici per essere in Italia? Esco al cinema con un film tra due mesi. Ho bisogno che questo pubblico mi conosca. Capisci? Aveva 70 anni, era Harrison Ford, e lavorava ancora sul suo pubblico. Pensa che livello di professionalità, pensa come il nostro pubblico farebbe bene anche a noi. Ecco il motivo cui i teatri restano aperti per film americani il loro star system ha creato un meccanismo cui vuoi andare al cinema a vedere quella gente lì.